Buon salve e bentornati su No Mamamazzo. Con estremo ritardo rispetto al mio solito sono a parlarvi del numero di D-Landog che è uscito il 13 giugno, il primo numero intitolato D-Landog Old Boy Tutto Attaccato, che è in realtà il Maxi D-Landog numero 39 a livello editoriale che cambia nome e assume il nome di questa collana che dovrebbe separarsi da il D-Landog serie regolare e il D-Landog Colorfest. Prima di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, di andare a vedere tutti gli altri video della playlist di D-Landog e perché no anche delle altre playlist potreste trovare qualcosa che vi piace, di condividere il video con tutte le persone che conoscete, che amano l'argomento e di commentare qui sotto con quello che viene parso del fumetto. Anzi, vi dirò di più, scrivetemi la vostra recensione di questo fumetto. Perché? Perché devo dire che il fatto per cui ho aspettato tanto a recensirlo, oltre che non ho avuto tempo come solitamente ho di farlo subito, è che anche dopo che l'ho letto non mi è piaciuto tantissimo. Però, appunto, essendo il numero uno, diciamo, di questo nuovo corso, ho voluto quantomeno parlarne con voi. Sono molto sincero, se anche il prossimo numero non titilla le mie corde, probabilmente non farò il video a riguardo. A meno che voi non vogliate che io lo faccia, basta che me lo dite nei commenti e allora lo farò comunque. Per chi avesse visto l'ultimo mio video in cui parlavo del D-Landog 405 dal titolo L'Uccisore, di cui, tra l'altro, sono stato onoratissimo che l'ha visto persino Roberto Recchioni. In quell'ultimo video prendevo anche un po' in giro questa cosa che molti si sono risentiti di questo trafiletto, il D-Landog che hai sempre amato, come se fosse un po' una trollata per quelle persone che non amano la serie regolare, come sta diventando ora. In realtà non è per forza una trollata, anzi è una strizzata d'occhio a questi lettori e questo lo potete anche capire da, chiamiamolo, editoriale che trovate qua dentro. Leggitevelo perché vi spiega un po' l'andamento che Roberto Recchioni vuole dare alle nuove testate di D-Landog. C'è la serie regolare, che ora comprende la miniserie D-Landog 666, la serie Colorfest, che è la serie più sperimentale sia a livello grafico ma perché no anche a livello di storia, molte storie sono davvero allucinanti, e poi c'è l'Old Boy, cioè la garanzia di avere una storia dal formato e dal gusto retro. Questo fumetto costa 6,50 euro, quasi di 200 pagine, e contiene due storie regolari. Esce bimestralmente, quindi a fine anno avremo 12 storie dell'Old Boy, oltre che 12 storie della serie regolare. La cosa buffa invece, la vera trollata secondo me, di questo primo Old Boy con il D-Landog che hai sempre amato, è il fatto che la prima storia ci mostri proprio un D-Landog che non è il D-Landog che noi conosciamo, non è il D-Landog classico, non è neanche il D-Landog 666, è il D-Landog che vive in un ipotetico futuro, diciamo, se non altro per le tecnologie che ci sono presenti, in una società futuristica in cui tutto è bello per forza, tutto è perfetto, però tutti i cittadini sparlano di tutti, stanno fuori sui balconi a vedere se metti la mascherina, no, quello succede nella realtà, scusate, mi stavo confondendo, se tu non esci di casa per tre giorni ti segnalano, è proprio una società stile 1984 di Orwell, in cui c'è questa utopia che però per essere tale nasconde tutte le cose negative della società, negative per questa società malata. Per esempio a un certo punto D-Landog si rende conto che non ci sono anziani in questa Inghilterra, così come si rende conto che è tutto troppo perfetto, lui è più disoccupato del solito, perché non c'è mai un caso su cui indagare, va tutto sempre troppo bene. Sempre in questa Inghilterra dispotica, guarda caso, solo in Inghilterra ci sono degli strani raggi che rovinano la retina e tutti sono costretti a indossare degli occhiali, che sembrano degli occhiali di realtà aumentata, quelli, non dico i VR, però sembrano gli occhiali tipo quelli di Google, che però invece di aumentare la realtà diciamo la sottraggono alcune cose, sottraggono quelle cose che la società, che il governo in questo caso, il governo londinese non vuole che i cittadini vedano, tra cui appunto le persone anziane, lo sfascio del paese, la fatiescenza di alcune aree degradate, per dare appunto l'idea che questo sia il migliore dei mondi possibili, da cui il titolo della storia. Ammetto che la storia in sé mi è piaciuta molto, il fatto che il cattivo di questa storia sia il governo, che sia la società, e che Dylan Dogg da solo, o comunque con questo manipolo di ribelli, che non sono per niente dei guerrieri, ma sono persone deboli, sono anziani, debba lottare con questo governo. E in, come si dice, va da sé che questa storia va a finire male. E in Dylan Dogg mi piace anche quando non c'è un lieto fine, non c'è sempre un lieto fine, come anche nella vita reale, spesso i potenti vincono, e questa storia è nel chiaro esempio. Mi è piaciuto un po' meno invece che Graucio non fosse tanto presente nella storia. Cioè ogni tanto comparisse a caso in un riquadro, quasi come se l'avessero aggiunto successivamente, perché è l'old boy e ci deve essere Graucio, per poi rivelare nel finale dove è sempre stato dall'inizio della storia, perché era quasi fuori campo, però, devo dire, non mi è piaciuto molto, poteva esserci comunque all'interno della storia un Graucio, perché no, magari tra i ribelli anziani, perché no, poteva esserci, sarebbe stato carino, invece era totalmente estraniato. Non fa niente, un dettaglio, anche se mi è scocciato che il primo numero partisse quasi senza Graucio, ed è forse per questo che l'hanno aggiunto in alcuni riquadri, ma a me è sembrato proprio messo perché doveva esserci. A livello invece di grafica, devo dire che siamo partiti col botto, l'old boy ha proprio uno stile vecchio, uno stile anni 80, con una griglia fatta proprio a sei vignette, ce ne mostro una a caso, ecco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ok, nel caso io uso il linguaggio tecnico vi faccio vedere cos'è la griglia. Questa è la griglia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 riquadri. Ci sono anche i balloon che sono molto molto fitti di parole, così come erano i primi di Landog. E anche questo fa trassudare questo stile vecchio che mi è piaciuto molto. Cosa invece non mi è piaciuto tanto? Non mi è piaciuto tanto che al di là di sentire questo sentimento di vecchio numero di Landog, non ho sentito quel trasporto che si poteva sentire in numeri che hanno fatto la storia. Mi viene da pensare Johnny Freak, mi viene da pensare storie dall'invi... memoria dall'invisibile. Quelli sono numeri che ti lasciano un segno. Qua no. Ed è proprio anche per quello, secondo me, che le storie dell'Old Boy finiscono nell'Old Boy. Molti, nello scorso mio video, mi hanno scritto nei commenti ma perché non si poteva continuare a fare il Landog classico nella serie regolare anziché deviarlo nell'Old Boy e nella serie Old Boy, cioè fare una serie a parte sul Landog maxi che poteva essere la serie 666, così innovativa, diciamo. Perché? Perché Dilan Dog... Quindi esco un attimo da quello che è la storia interna di Dilan Dog. Andiamo sulla storia commerciale di Dilan Dog. Dilan Dog è sempre stato... sempre. Negli anni 90 ha avuto un boom dal punto di vista della popolarità. È diventato un fenomeno di massa, è diventato un simbolo italiano di quegli anni. Di conseguenza le storie vanno a impattare proprio sulla realtà. La realtà impatta le storie di Dilan Dog e Dilan Dog di contro risponde impattando sulla popolazione che li legge ma anche sulla popolazione che non lo legge, che si scandalizza, che ci scrive numeri di giornali perché Dilan Dog ha parlato di questo, perché Dilan Dog ha parlato di quest'altro. Ora, continuando a fare delle serie dei racconti, dei numeri di fumetti vecchio stile, stile old boy, non si potrebbe più toccare gli argomenti di attualità. Si deve per forza rilanciare il personaggio ed è per questo che c'è stata un'operazione di rilancio col numero 401 in Dilan Dog in modo da riportarlo nell'attualità. Oltre ad aver avuto anche un rilancio dal punto di vista della scrittura, un rilancio dal punto di vista anche della grafica, se vogliamo, perché comunque Corrado Roy gioca molto con le tavole. Di contro, queste storie nell'old boy sì, sono carine, ma parlano di cose che ti fanno pensare, ma non vanno a toccare temi caldi, fondamentalmente. Quindi, se una storia non ti scava dentro, non è, diciamo, perdonatemi il termine brutto per chi ha scritto queste storie, che sono comunque gradevoli, non è all'altezza di andare nella serie regolare. Quindi, la serie old boy racconta una bella storia di Dilan Dog, ma che non ti scava dentro. E questa, secondo me, è l'altra caratteristica che serve a una storia per andare sull'old boy. Ovvero, oltre ad avere un vecchio stile, una vecchia griglia, un vecchio modo di usare i balloon, anche una storia che non è graffiante al punto di arrivare sulla serie regolare. Per ora questo video finisce qui, vorrei fare un altro video, che magari sarà anche corto la metà di questo, in cui mi concentrerò sulla seconda storia. Fatemi sapere se questo format vi va bene o se preferite un video univoco in cui parlo di entrambe le storie. Preferisco concentrarmi su ogni singola storia, in questo caso. Ammesso che continuo a fare le recensioni dell'old boy, perché, appunto, ve l'ho detto, se non mi prendono tanto, non è un piacere neanche parlarne. La prossima storia si intitolerà La solitudine del serpente e Nobri Concelli non parla di autoerotismo durante la quarantena da Covid. Io, come sempre, con l'inchino e con l'imbuto, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video che uscirà quanto prima. Non so quando, ma prestissimo. Arrivederci.